e oggi l'ospite speciale è Ayub 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 che viene da? dalla Francia nato o in Italia però no, no, non ti ho sentito stavamo sentendo allora tu sei nato in Francia? no, sei nato in Italia? sono nato in Italia ma vivo in Francia ah, vivo in Francia dove sei in Francia? Dione Dione, ok bravo bravo pussamaria R.P.G aaaaaaaa da 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 via, niga, sono penali due vittorie, niga due vittorie del mini eh oggi oggi? bravo allora il mini il mini mi piace anche almeno ieri abbiamo vinto pure noi due di pila dentro proprio con le ragazze di traporte ah, proprio ma quella da quattro sempre? si, si, sempre da quattro ah, ok una con il riempimento eravamo due due contro cioè vabbè siamo partiti malissimo tipo due due stanno inchiappettando la prima volta siamo in fuoco discese l'abbiamo vinta così all'acca all'accazissimo e la seconda con altri altri ultimi ma si non capito non capito non capito non capito non capito adesso nerd a bb la e poi si chiude qua c'è dietro in ascolatore beh ah e quanti ecchi ci stanno guardando? allora vediamo un po' fammi fare un calcolo veloce eh zero ah 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 vi devi sponsorizzare perchè mi servono 50 follower poi dopo da lì parte tutto che diventi affiliato di twitch dov'è che andiamo? a verde? portone 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 che è portone? guardi assoluto guardi che è portone? la stella rossa? no ma c'è troppo guarda dove siete? staccate stanno questi in gioco sniper mi hanno fatto fuori come si dice a roma grazie al cazzo no l'altro mech, l'altro mech ah ok per te ero ormai oh a 27 metri qua destra c'è gente eh mai non c'è più niente da fare con me porca puttana se c'è un'arma per me aiuto 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 oh ma sai che io non sento niente ecco ah no? no non sento i pazzi dentro la gulag ah scusa non avevo capito il motivo che è sul gulag no tranquillo abbiamo un problema di sound scusa adesso ti restiamo c'è soldi c'è soldi tranquillo tranquillo magari non è la colpa dell'audio eh facciamo pinta che era la colpa dell'audio ma si esatto questo è un gioco che fa uscire l'animalo che è in te qui tutti si lamentano ogni volta quando uno muore c'è sempre ah c'è wow grande Ayman no ma io tipo l'altra volta quando era tu lo conosci Delta Chef sta sempre dentro sta sempre dentro al nostro reggimento di Blanca Leone oh cazzo allora c'è uno c'è uno c'è uno qua cazzo io c'ho uno con lo sniper eccolo la oh mi ha aiutato un uomo mi ha aiutato un uomo eh non so non so non ci veniamo lascia stare dove scatta solo su un uomo se vieni con me vieni con me saliamo saliamo facciamo prima quelli sopra e poi proviamo a scendere no ci affettano maaa uuuuh ah ok mi hanno fatto il sandwich 11 centimetri qua verso vieni compito e lo so lo so vieni compito fuciati un po' fuciati un po' fuciati un po' fuciati un po' puoi insegnare il mio lavoro a me? ah si mamma mi mandato si 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 bravo Aiman bravo una terra una terra fermo 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 il costro il costro apri 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 mannagg era una bella idea che fatti che fatti che fatti se qualcuno è arrivato con paracadute trappare i soldi trappare i soldi trappare i soldi un'altra caglia a loro a terra a terra a terra a terra a terra bravo Aiman bravo Aiman eccolo uno a terra adesso qui 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 allo shop allo shop sta sopra lo shop uno bravo bravo ma che bravo bello questa cosa adesso te la registro la clip ma sei proprio forte non so cosa hai fatto non so se tu lo sai ma hai fatto oh chi è che sta sparando si l'ho visto l'ho visto arrivo io no 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 volevo dargli una cazzo vada una capocciata bravo una capocciata sul naso invece non ce l'ho fatta beh ma ah perchè l'amico suo stava dietro se deve essere un po' più larghi si bravo quello lì l'ha ammazzato veramente bene quello con la mitraglietta meno male che hanno finito i colpi anche lui si si infatti è stata una bella danza ti voglio guidare un po' per favore sound e ciao milagro siamo a destra sinistra 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 scappa scappa ti stai seguendo ti stai seguendo è la tua a destra eh occhio corri corri che c'è la bandierina corri che c'è la bandierina basta lo faccio lo faccio no no tranquilla tranquilla non rompere niente giù non rompere niente oh che cazzo mi ha dato subito così bello senza combattere pingatemi pingatemi la cosa che ti pingo lo shop la coroncina non c'è coroncina oh non c'è si si c'è c'è non sta non sta sopra o sotto sotto di me di me la prova sono morto sono morto sono morto non vorrei più veloce eh no è troppo è troppo veloce Ma veramente? Eccolo Ma che cazzo sta? Com'è che vi chiamate sto switch? Ehm, Branca Leone Warzone C'è qualcuno, no? Si, si, c'è qualcuno Come non ho capito scusa? Branca Leone Warzone Mi sembra tutto attaccato E c'è la porta Non tranquillo, tranquillo, tranquillo Certo, certo Sei anche sulla clip di Youtube, guarda Cardiopatico E vediamo Questa cosa c'è? Questa c'è la prima La corona hai maledito a prenderla No, eh, non riesco più Nasce, nasce Intenta che c'è sto cosa c'è l'Asia Ti vedono eh Quasi quasi da start Quattro persone Tre team Due insieme Eccolo là Tre, due, uno Ma dove vuoi andare? Ma che bravo Arriva A destra qualcuno No, ha chiamato pure l'amico Ci ha fatto in tempo Non ci voglio credo Sì, ha arrestato, ha arrestato due amici Sì, sì Ma poi Dai, sono anch'io lui A, ha arrestato È il tipo che hai ammazzato prima Prima? Quattro Sì, sì, era lui Mi manca uno Ah, hai trovato il canale? No, lo facciamo Ah, io Sì, l'ho trovato, l'ho trovato Ah, ottimo Vai, segui, segui, segui Mi servono 50 Ah, ottimo, non scendere, non scendere Sì, rimani, fermati, fermati Bravo, bravo Guarda di sotto se riesci, sali proprio sotto No, no, guarda di sotto No, dopo, dopo, sennò fa Il bersaglio mobile Che cazzo ho fatto? Sono cagato in mano, tu dovevo morirsi, però Ma ne è anch'io, eh, che c'è l'avanzamento automatico Che cos'è l'avanzamento automatico? Oh, bella Bella, bravo Volevo fargli la mossa finale Beh, pure, mamma, che Che artista della No, peccato, peccato 3 di fila, l'ho detto L'ho detto, l'ho fatto Non c'è molta griglia All'altra Buon attimo, in bagno, in Rio Starti subito o non ho fatto? Come vuoi, come vuoi Ci stava pure Momo, mi sa che Però se vuoi No, ma fatti, se vuoi giocare con tuo cugino Io e mio fratello usciamo e ci giochiamo più tardi, eh No, tranquilli, tranquilli, io adesso vado Eh, metto Fortnite, metto quello? Eh? Metto Fortnite con c'è? Eh, aspetta che lo chiamo, se mi dicevi che ci siamo Stavo con un uomo Perché lo chiamo, chiedo Un attimo, intanto che chiami, vado un attimo in bagno e arrivo, dai Ne ha fatti poi sette, addirittura, bella prova Vabbè, intanto usciamo, no? Eh, sì Dai, ma è andato più in bagno Oh, giù, giochi Gio, aiuto, aiuto Ciao Ciao Ah, c'è ascent